La partita era quasi finita E' uno dei miei compagni, assolutamente E sono orgoglioso di loro E quindi questa è la strada giusta per proseguire il campionato Siamo tutti giovani, tutti bravi ragazzi Quindi sappiamo che magari tecnicamente partiamo un po' sotto le altre Quindi questo gap lo dobbiamo colmare con il gruppo Aiutarci l'uno con l'altro, essere uniti Quindi è stato un po' l'emblema della partita Sapevamo che l'Inter è qualitativamente più forte di noi Quindi dovevamo essere compatti Lo siamo stati per tutta la partita Peccato per quel gol alla fine